Contro Berlusconi, legittima difesa. Occupazioni delle scuole, non verranno tollerate, occupazioni dell'università, noi oggi gli diciamo contro questo Stato, contro questo governo, contro questo modello di sviluppo, noi occuperemo tutto. A Porto Labaro! Dove stanno? Dove stanno gli altri? Iper lavoro politico a Berlusconi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.